Un giarre volitivo, coriaceo e generoso non riesce nell'impresa di battere il Camaro nello scontro diretto giocato domenica scorsa al regionale, abbandonando quasi definitivamente le residue speranze di poter agganciare il treno dei play-off. Gli attrae di Mr. Peppe Mascara rimangono sesti in classifica, agganciati dal Paternò, vincente a sorpresa sul Biancavilla secondo. Il Camaro quinto rimane a cinque punti di distanza, nonostante un calendario favorevole di cui alla fine resta pressoché irraggiungibile. Gli uomini del presidente Nirelli, scese in campo con un camaleontico 4-2-3-1, hanno cercato subito di mettere pressione alla retroguardia peloritana. Già al quinto minuto Carbonaro serve in profondità Caputa, che entra in area con la sua conclusione rasoterra intercettata da Mannino. Alla mezz'ora Giarra è ancora pericoloso con Weinstein, che impegna Mannino con una gran conclusione dalla distanza. Nel secondo tempo il Camaro si fa pericoloso attorno alla mezz'ora, con colonna che ribatte il calcio d'angolo di Mondello e si esalta sulla successiva conclusione di Ancione. Il Giarra ci prova con generosità, ma neanche l'ingresso in campo del neoacquisto redondo cambia le cose. Al 74esimo ancora Weinstein mette i brividi alla difesa ospite, con una punizione da sinistra che esce fuori di pochissimo. Cinque minuti dopo tocca a Marrone servire compagno, che mette in mezzo una palla, su cui Leotta arriva con un secondo di ritardo. Ultimo brivido di marca nero-verde. Alla 85esimo Falcone lancia Assenzio, con colonna Bravo a sventare il pericolo. A fine gara il tecnico Mascara loda la prova dei suoi, pur rammaricandosi per le numerose occasioni sprecate. Avete visto tutti, purtroppo se non butti la palla dentro fai fatica a vincere le partite. Sotto la prestazione penso che i ragazzi hanno fatto sia un grande primo tempo che un secondo tempo. Abbiamo tenuto i ritmi alti, anche se loro cercavano di abbassare i ritmi. Però come ho detto prima, se hai sette occasioni gol, non ne fai neanche una, poi stiamo qua a parlare di altro. Ma loro ci concedevano, concedevano tanto, quindi abbiamo preparato la partita durante la settimana su quello che poteva essere la gara anche nei minuti finali. Purtroppo è inutile dire che è andata così. Adesso ci rimangono cinque finali.